Bene amici, Sony Xperia 1, sesta generazione, un po' troppo fedele a se stesso, mi hanno fatto molto piacere il jack per le cuffie, l'espansione SD per la memoria su un top di gamma non si vedevano da tempo, ma l'uso quotidiano, mannaggia... No, non convince, forse troppo fedele a se stesso, nello scoprino nella recensione completa. E arriverà il giorno che i produttori non ci daranno più nemmeno la confezione, perché non c'è dentro manco il cavo dati, niente, niente, e già che l'ergonomia del telefono fosse scomoda, devo capirlo dalla confezione, non perché sia povera, ma perché è scomoda anche lei, non so come dirvi, scivola, si fa fatica ad aprire, insomma dovete un po' fidarvi di me, perché lui è un telefono che ha dei materiali ottimi, ma ergonomia d'uso veramente bassa. Ma procediamo con ordine, frame in alluminio, bello zigrinato, bella anche la cover posteriore in vetro zigrinata, il fatto che sembra di plastica anche al suono, perché non la fai di vetro che cade e eventualmente si rompa a fame direttamente in plastica. Però non trattiene le ditate, questa è una cosa molto molto buona, cam dovrebbe essere il punto forte di Sony, 48 megapixel la principale, 12 la 3.5x che arriva in maniera ottica fino al 7.1, uno zoom continuo, bene, e poi a 12 megapixel, 123 gradi di apertura, non sporgono tantissimo, 8,2 mm lo spessore, 192 grammi, non è troppo pesante, non è nemmeno troppo spesso, il P68 quindi impermeabile, ma il fatto che tutti i pulsanti siano messi su questo lato, mamma mia che poca ergonomia, perché? Lo prendete e tendenzialmente qualcuno di questi pulsanti lo toccate dentro, magari anche quando lo usate così, e visto che il pulsante accessione è anche in pronta digitale, tutte le volte che sfiorate qua con un dito che non è registrato, sentite una vibrazione e lo farete sempre, perché è proprio lì in mezzo alle scatole. Se prendete il telefono un po' più in basso, vedete così, toccate sempre il pulsante di scatto, che ok va premuto a fondo per far aprire la fotocamera, ma vi posso dire che dà molto fastidio il fatto di sentire un click, sentire uno zzz, sentire un clac, e poi i pulsanti per il volume un po' piccolino, avrebbero un pochino più lungo. Da questa parte non c'è niente, sopra il jack per le cuffie. E viva amici audiofili, chiamate le cuffie analogiche, questo è il telefono che fa per voi, sotto due sim oppure una sim in più. Attenzione, espansione di memoria su un top di gamma, quanto tempo che non la si sentiva, ma attenzione mettete solo memorie veloci, perché se mettete in memoria l'enter allenterete un po' tutto il telefono, anche per questo che alcuni produttori non mettono più, o almeno tutti i produttori, l'espansione di memoria. E poi è veramente molto molto scivolosetto, molto difficile utilizzarlo senza cover. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, uscita video e sim, supportata la grande, l'ho usato a Taipei tantissimo, vedete, always on display, e parliamo proprio del display. 6,5 pollici di diagonali, cornici raga anacronistiche, guardate sopra e sotto con questi cornicioni, ok, si nasconde il foro della fotocamera, ma vabbè, ormai i telefoni non si fanno più così, ma il display mi è piaciuto. Un downgrade per quanto riguarda le soluzioni, solamente Full HD+, 396 ppi, ma non più 21 noni, bensì 19,5 noni, un po' più comodo per visualizzare contenuti che non siano cinematografici, e poi abbiamo la taratura, vedete, modalità creazione, che perché è abituato ai colori dell'OLED, il schermo ovviamente è un OLED, sembrano un po' smortini, ma sono tarati perché lui può essere utilizzato per monitor esterno, ovvero quando lo colleghiamo alla Sony Alpha, possiamo andare a vedere cosa registriamo direttamente dal telefono, e questa è una cosa comoda, quindi avere un calibrato è meglio. Batteria 25 watt ora, carica 30 watt, 15 watt wireless, 30 minuti 50%, un'ora e mezza 100%, non velocissimo, ma la batteria convince, perché se vado qua nelle foto e faccio vedere gli screenshot, 5 ore e 23 con un buon utilizzo, 37% a sera normalizzando il consumo, 25-30% a fine giornata, giornata e non scalda, scalda sicuramente meno di predecessore, non mi è mai uscito l'avviso. Attenzione, non usarne più perché sto sul riscaldando come mi era successo con praticamente tutti i suoi precedenti cugini, e lo Snapdragon 8603 si riconferma un ottimo processore. Ha ovviamente, no beh ovviamente non è dato per scontato, la carica intelligente, qua nella batteria si può attivare e disattivare, qua ricarica batteria, vedete, per quanto riguarda il funzionamento generale, prima però chiamiamo il 190, c'è una cosa proprio che non tollero e ogni tasto che schiaccio, la vibrazione zanzarosa, è veramente brutta la vibrazione. Vi ho voce al massimo, stereo, devo dire buono il volume, Tyler Google, non si possono registrare le chiamate, ma dal punto di vista telefonico non ho nulla di cui lamentarmi. Mi lamento però delle informazioni sullo smartphone, perché il software che non è qua, ah sì era lì, ok qua in fondo, ok Android 14, ma patch ancora ad aprile, quindi non benissimo. Invece per quanto riguarda come gira, vi dicevo prima, allora bene perché il software, perché l'hardware sono ok, il software praticamente è Android stock, ma questo feed della vibrazione, anche quando arrivano le chiamate, le notifiche, che spesso non si sentono perché è basso, è zanzaroso, ha la coda, insomma sembra veramente di un telefono cheap e poi gli ho trovato abbastanza bug. Instagram, le storie che avete visto da Taipei in gran parte erano girate con lui e in molti vi siete lamentati, mi succedeva spesso che mi troncasse la storia random a un certo punto perché si chiudeva l'applicazione, insomma ho trovato parecchi bug. Poi sapete cosa c'è? Non è tarato bene il touch sui bordi, la sensibilità, spesso non si riesce a chiudere un'applicazione, spesso quando lo si prende in mano si prende dentro qualche cosa, vabbè, insomma sono cose difficili da oggettivizzare, da fidarvi neanche, l'ho provato oltre una settimana e ho trovato sempre questi problemini. C'è la dashboard che si può attivare facendo così, poi c'è la classica pagina di Google News, come vedete la velocità, niente da dire, con questo processore gira tranquillamente senza nessun tipo di problema e vi parlo adesso delle fotografie. Entro nella fotocamera e questa è l'interfaccia, finalmente non ci sono più mille applicazioni per e Camera Pro, e Video Pro, e Starava Pro, c'è solamente l'applicazione fotocamera dove c'è il tag Pro, come vedete, e qua possiamo settare praticamente tutti i parametri, adesso sono addirittura in manuale, ma posso mettere priorità tempi, priorità apertura, qua nel menu, come vedete, è molto simile ai menu delle Alpha, effetto bokeh, foto, pulsante, per scattare la foto è anche comodo, ma ormai, voglio dire, ci siamo abituati al pulsante qua, forse non utilissimo, lo trovo molto più scomodo nell'uso quotidiano che comodo quando dobbiamo scattare le foto, 4K60 però c'è il passaggio tra le cam, questa cosa l'ho apprezzata tanto tanto tanto, unica cosa che la qualità, e qua metto un po' avanti le mani, non è il massimo, queste sono le altre opzioni, via con il video. First, che è questa, configurata 1, 1, 1, e io sono in business, che è configurata 1, è un 2 che però più un 1, vedete, c'è molta privacy, e poi 1 dall'altra parte. Non male l'antipasto, male però, non tanto questo salmone. Raga, ahimè, è vero che era una situazione di poca luce, ma alla fine ho messo anche un pezzo comparato con iPhone, e giusto per avere un paragone con le stesse luci, questo è un vestito digitato da iPhone, che è il benchmark a questo prezzo, e non ci siamo, difficoltà di mettere a fuoco, molta grana, vabbè, non ci siamo nemmeno con la camera anteriore, questa che non fa belle foto, mentre camera principale, posteriore, con tanta luce, bellissime foto, alcune foto sono da top camera, con colori molto naturali, però guardate qua, questo punte scatta con la zoom, non è venuto bene, qua torniamo su foto molto molto belle, e poi con le varie fotocamere ho fatto grandangolare, normale, zoom, e poi zoom, quello del 2.5, questo è il 3.5, questo è il 7.1, e poi sono andato a 20x, devo dire, la principale convince tanto, lo zoom un po' meno, anche perché bisogna lavorare tanto di manuale, per tirar fuori delle belle foto, vi faccio un esempio, non tanto in questo ristorante, abbiamo mangiato rame, noodle, e ravioli cinesi buonissimi, ma ecco, questo è l'esempio perfetto, questa foto è molto bella, ma l'ho fatta in manuale, regolando i tempi, l'esposizione, ed è venuta una bella foto, guardate, stessa foto fatta con il punte scatta, cioè ragazzi, è un telefono da 200 euro, mi devo fare questa foto, non un telefono da, vi spoglio il prezzo, 1399, poi se la mettiamo in manuale, pam, diventa un top camera phone, sì, ok, ma la gente è abituata a fare i punta e scatta, e poi sfera, che va a controbilanciare, venti e terremoti sul Type A101, il grattacielo che avete visto prima, ho fatto un reel, andate a vederlo, anche un TikTok, non l'ho girato con questo telefono, ma con l'iPhone, perché una volta che ho visto come venivano i video, del telefono, ho detto, vabbè, facciamo con l'iPhone, questo Night Market, molto bello, anche qua, vedete, le foto alla fine vengono bene, ma quasi tutte queste foto le ho dovute, diciamo, un po' aggiustare rispetto a questo gesto, che è anche molto facile da fare, dove eravamo? Qua nella fotocamera, nella galleria, vi faccio vedere qualche altra fotografia, e niente, alla fine, no, alla fine, attenzione, andate a vedere anche questo video, meglio del Computex, perché c'erano dei case così tamari, da farci il caffè col calore residuo, del raffreddamento di scheda video e processore, vabbè, torniamo a bomba, l'audio, devo dire che si sente bene, vi alzo il volume al massimo su Gigi Doug, il pezzo anche della, dei bassi ci sono, il volume è abbastanza buono, vi faccio vedere qua, la possibilità di andare a settare i volumi, e finalmente non c'è più la possibilità, di vibrazione, mentre suonava, cose inutili che faceva vibrare tutto, e sembrava un telefono ancora più cheap, di quello che non sembra con questa cover posteriore, un po' plasticosetta, insomma, non c'è stato feeling, tra me e lui, un po' perché il prezzo è alto, 1399 euro mi sembrano davvero tanti per un telefono che definisco X, perché scomodino, scivoloso, e anche abbastanza lento, vedete, questa è una scelta progettuale, ma il fade in e il fade out, così, ma che palle, insomma, non mi piace, ok l'autonomia, ok la fotocamera se vi mettete lì in manuale, ok se volete il jack cuffie, oppure l'espansione di memorie, ma rimane un'esperienza d'uso non wow, forse troppo fedele a sé stesso, un saluto da Andrea Galeazzi, punto com.